ciao a tutti gli amici di pronostico.it voglio farvi vedere a proposito dei pronostici lampo che questa nuova funzionalità che abbiamo inserito e che per il momento è in fase di beta testing faccio vedere l'aziogenola di ieri guardate qui c'erano di fatto 4 pronostici allora c'era l'over 2 e mezzo che il pronostico ufficiale con probabilità di 87 per cento l'over 2 e mezzo dato tra l'altro a 1 e 95 quindi una quota anche abbastanza alta vincente perché poi la partita fine a 3 a 1 1 a 0 primo tempo il pronostico secondario anche esso vincente perché erano per 1 e mezzo ma anche il pronostico degli utenti che era un segno 1 mi sembra 1 e 60 si intorno a 1 e 60 e nell'exchange anche 1 e 69 e c'era poi il pronostico lampo quello viola che era 905 primo tempo anche questo vincente considerando che il match è fino a 1 a 0 e l'over 05 primo tempo dato a 1 e 36 quindi sostanzialmente quando uno ha questa situazione insomma una situazione molto bella quattro pronostici tutti nella stessa direzione e tutti vincenti fino a 5 cittadini natura